Romina Power furiosa con Maurizio Costanzo dopo l'intervista su Albano Uno tra gli argomenti sicuramente più chiacchierati sui social e sul web in generale, riguarda la travagliata situazione esistente tra tre protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. Stiamo parlando del cantante di Cellin Albano Carrisi, della sua ex moglie Romina Power e dell'ormai ex compagna, Loredana Lecciso. La travagliata situazione tra Albano, Romina e Loredana. Albano e Loredana comunicarono pubblicamente la fine della loro storia circa un mese fa. A confermare tale situazione si sono susseguite numerose interviste durante le quali i due chiarivano parte delle motivazioni che li hanno portati a prendere questa drastica decisione. Uno tra i tasti dolenti della loro storia, però, è sempre stata un'altra donna, ovvero l'ex moglie di Albano, Romina Power. La donna ha sempre rappresentato una sorta di problema per la coppia e, dopo il suo ritorno in Italia dagli Stati Uniti, la situazione è degenerata sempre più. . Mentre i due compagni hanno sempre avuto la possibilità di commentare la vicenda in televisione, alla Power non era mai capitato prima d'ora. . Per questo motivo Maurizio Costanzo ha voluto invitare la donna all'interno del suo programma per farsi che esponesse le sue considerazioni in merito alla travagliata vicenda amorosa. . . La Power ha rilasciato delle frasi molto forti in merito al suo rapporto con l'ex marito, ha confessato infatti di amare ancora Albano. . Non riesco a non amarlo, questa cosa che ci lega non smetterà mai. . Romina Power accusa Maurizio Costanzo. Ma la notizia che maggiormente ha fatto scalpore non è questa. Che tra i due ci fosse un legame indissolubile era già trapelato da tempo, anche l'Alecciso era consapevole di tutto ciò. . E forse anche questo ha contribuito alla fine del suo rapporto con il cantante di Cellino. . Che ha suscitato maggiore sgomento è stata la reazione di Romina Power che sui social si è sfogata contro il giornalista e conduttore marito della De Filippi. . La donna è stata infastidita dalla diffusione, da parte dell'ufficio stampa del programma. . Di tutte le dichiarazioni rilasciate da lei stessa sul rapporto con Albano alla vigilia della messa in onda della trasmissione. . Romina ha pubblicato un duro post sui social in cui ha espresso la volontà di non rilasciare mai più interviste in merito. . A causa della mancanza di lealtà del programma per aver pubblicare la trascrizione dell'intervista per esteso corredata di foto e quantaltro. . Una reazione decisamente spropositata, considerando che lei stessa, in più occasioni, ha giocato molto sulla storia con Albano. .